Continua il rinnovamento tecnologico della sanità pesarese dopo vent'anni nuova attacca al San Salvatore. Altro incendio a Montelabate, capannone e camion devastati dalle fiamme. Ripopolamento dei borghi, camera di commercio al fianco delle imprese. Record di atleti marchigiani in partenza per le Olimpiadi di Parigi. I migliori vini del territorio tornano nel centro pesarese con Cali City. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale con l'informazione di Rossini News. Telegiornale di giovedì 11 luglio che apriamo questa sera occupandoci di sanità e in particolare del progressivo potenziamento tecnologico delle strutture ospedaliere pesaresi. Oggi è stato infatti inaugurato l'undicesimo dei dodici macchinari acquistati dalla regione Marche con fondi PNRR. Si tratta in particolare di una nuova attacca per l'ospedale San Salvatore che porta un importante salto di qualità alle prestazioni mediche. Dopo vent'anni l'ospedale San Salvatore di Pesero si dota di una nuova attacca ed è uno strumento di ultima generazione destinato a migliorare qualità e rapidità di prestazioni. Un altro taglio del nastro per la sanità pesarese che inaugura l'undicesimo dei dodici macchinari acquistati dalla regione Marche con fondi PNRR per un investimento per quel che riguarda l'attacca di 556 mila euro. L'undicesimo mi fa molto piacere perché entro la fine dell'anno porteremo a termine anche il dodicesimo che è la nuova risonanza magnetico qui a Pesero. Diciamo che l'impegno è stato forte anche da parte dei colleghi. Sono stati acquisiti molte attrezzature tra cui la risonanza a Fano. Abbiamo preso 4 mammografi, abbiamo preso 4 RX e l'acceleratore lineare che abbiamo inaugurato da poco. Sono soddisfatto. Ci saranno anche altre attrezzature importanti. C'è un grande rinnovamento e di questo sono soddisfattissimo perché ci consente anche di effettuare molte più prestazioni con macchine che sono di alta specializzazione. La nuova TAC 128 strati è già in funzione dal 1 luglio e fornisce un salto di qualità tecnologico basato sull'intelligenza artificiale che agisce sulla ricostruzione delle immagini e permette di ridurre la dose di radiazione al paziente. Un salto di qualità che ci consente di migliorare sicuramente l'attività dell'ATC che è fondamentale sia per i pazienti interni sia per gli esterni ma anche per il pronto soccorso. Tra le varie novità di questo macchinario e di questa ATC in particolare è questa specie di occhio dotato di intelligenza artificiale che legge direttamente lo scanogramma del soggetto e con un'ottimizzazione dei parametri di acquisizione che poi imposterà il macchinario nell'esecuzione dell'ATC. Ciò ci agevola sicuramente quindi accelerando il processo stesso dell'acquisizione delle immagini. Un segno continuo di efficientamento del sistema, di alta tecnologia e di miglioramento delle prestazioni della sanità della provincia di Pesorubino nell'asta numero uno quindi grazie anche al direttore Carelli per la professionalità e la tempistica che è stata rispettata. Quindi continuiamo su questa strada, miglioramento delle infrastrutture è sempre importante e fondamentale per ottenere risultati sempre maggiori. Per l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini il rinnovamento tecnologico si accompagna a spiragli positivi nella lotta alla carenza di personale medico. Le ultime notizie in fatto di sanità dopo quelle negative, lunghe liste d'attesa problemi al CUP, attacco hacker e così via è che stiamo in via di approvazione a livello nazionale da parte del Parlamento un decreto legge sulle liste d'attesa che autorizza le aziende ad aumentare il numero di medici di circa il 10% rispetto al tetto di spesa defiscalizza alcune prestazioni aggiuntive di cui noi abbiamo assoluto bisogno per curare i nostri cittadini la tassazione ora prevista del 43% viene portata al 15% e quindi sono due notizie importantissime e positive rispetto alla mancanza di medici, rispetto al tetto di spesa rispetto al sottofinanziamento della sanità naturalmente non ultimo il nuovissimo ospedale oltre i 200 milioni di investimenti sarà uno dei più moderni ospedali a livello nazionale non sono più promesse politiche o elettorali i provvedimenti stanno andando avanti il finanziamento è previsto la città di Pesaro meritava questo meritano i cittadini pesaresi di Urbino naturalmente di questa provincia di bloccare la mobilità passiva io penso che la sfida rispetto al passato sia iniziata e stia proseguendo in modo assolutamente positivo Lasciamo la sanità e passiamo alla cronaca a distanza di pochi giorni dal maxi incendio di Valle di Fieno avvenuto a Monte Labate un altro vasto ruogo si è sviluppato nella stessa limitrofa area industriale di Via Pantanelli a prendere fuoco nella tarda serata di ieri è stato il capannone della Massanelli Impianti dalla quale si è alzato un'imponente colonna di fumo dalle 22 il carburante di tanti mezzi pesanti ha contribuito ad alimentare il ruogo che è stato sedato nella notte dai vigili del fuoco intervenuti con sei mezzi questa mattina ci sono state ulteriori verifiche anche alla presenza dei tecnici dell'ARPAM per verificare l'eventuale emissione di sostanze inquinanti i residenti di Monte Labate sono stati invitati a rimanere precauzionalmente con le finestre chiuse indagini in corso per una sospetta origine dolosa dell'incendio altra importante operazione a contrasto allo spaccio di droga nel parco Miralfiore di Pesaro grazie ad un blitz congiunto fra polizia, carabinieri, guardia di finanza e unità cinofile che hanno fermato 12 persone di età compresa fra 19 e 50 anni sospettati di recarsi al parco per acquistare droghe due di questi sono stati trovati con piccoli quantitativi di stupefacenti e segnalati alla prefettura identificati anche 9 individui con precedenti legati allo spaccio tutti stranieri dalla Nigeria, dal Gambia, dalla Sierra Leone e dal Bangladesh tra questi un gambiano di 23 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti essendo stato trovato con circa 15 grammi di droghe suddivisi in dosi l'arresto è stato convalidato con obbligo di firma e poi un nigeriano di 28 anni denunciato per esistenza pubblico ufficiale mentre un altro nigeriano di 34 anni è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione e questa mattina è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza nell'operazione l'unità cinofile hanno anche trovato 45 grammi di hashish nascosti in un cafanetto fra la vegetazione del parco e quella di oggi è stata anche una giornata all'insegna di importanti presentazioni di bandi a sostegno del territorio due di questi sono a favore delle imprese sono stati illustrati oggi dalla Camera di Commercio dall'appena rieletto presidente Gino Sabatini presso la Camera di Commercio di Pesaro in corso 11 settembre sono stati presentati due bandi realizzati dalla stessa Camera di Commercio uno dei quali in collaborazione con la regione si tratta del bando Borghi destinato a far sì che ci sia un ripopolamento dei borghi quindi dei piccoli centri soprattutto in chiave turistica e il secondo bando che riguarda invece l'ambiente e l'economia circolare è stata anche l'occasione per la prima uscita pubblica del neoeletto presidente Gino Sabatini che non più tardi di un mese fa è stato eletto anche a livello di vicepresidenza nazionale quindi abbiamo avuto modo di ascoltare le sue impressioni dopo questa nuova rielezione una è una continuazione del bando Borghi che noi avevamo negli scorsi anni l'abbiamo modellato su delle indicazioni che le associazioni in categoria ci hanno dato le imprese ci hanno anche suggerito l'abbiamo rimodellato per ripresentarlo adesso in un momento importante dove tutto l'asse centrale dell'Appennino perciò tutti quanti questi borghi hanno una nuova vitalità anche tramite il bando che il presidente Acquaroli ha messo in campo come Regione Marche che aiutano gli enti e i comuni su alcune linee proprio per rivitalizzare queste zone noi ci siamo mossi sulle imprese stessa cosa l'abbiamo voluto fare sulla sostenibilità e il BIN è un tema importante dove si parla di certificazioni come si parla di consulenze di aiutare il sistema delle imprese devono entrare in questo mondo nuovo che per la piccola microimpresa può essere anche l'ESG dobbiamo far sì che il tessuto imprenditoriale delle marche al 360 gradi sia coinvolto in una nuova epoca di sostenibilità Quasi in contemporanea all'appuntamento in Camera di Commercio tantissimi sindaci e amministratori della provincia si sono ritrovati invece a Fano per la presentazione di due bandi a sostegno dei comuni a favore della sicurezza stradale e del recupero delle mura storiche bandi sui quali la Regione Marche ha investito 12 milioni di euro Siamo al lavoro per valorizzare la identità e i luoghi storici della nostra Regione a cui uniamo anche la sicurezza altri 12 milioni di euro a disposizione dei comuni e delle nostre comunità locali questo è stato un po' una chiave di volta delle politiche della Giunta Acquaroli sostenere le comunità locali Sono bandi sia per la sicurezza stradale e sia un bando per quanto riguarda le mura storiche Chiediamo ai comuni i progetti valutiamo la qualità dei progetti e anche in parte i cofinanzamenti perché è un modo anche per evidenziare l'interesse che ha il comune per gli argomenti per la qualità dei progetti Da una parte stiamo parlando di strade quindi di sicurezza che non è solo asfalto sono proprio marciapiedi rotatorie percorsi ciclabili oltre anche la sicurezza proprio stradale del manufatto stradale della carreggiata dall'altra parte invece le mura che non è solo messi in sicurezza ma è proprio qualità del borgo quindi anche una qualità estetica del recupero e degli spazi intorno alle mura Qualità non solo in verticale perché mettiamo a disposizione 4 milioni di euro è la seconda volta nella storia della regione la prima volta è successo l'anno scorso per la sistemazione delle mura di cinta delle nostre città ma anche qualità in senso orizzontale vogliamo interventi che garantiscono la sicurezza nella circolazione di pedoni di amanti della bicicletta e di chi percorre le nostre strade in auto e qui destiniamo oltre 7 milioni di euro in totale siamo arrivati ad interventi agevolati da risorse regionali che vanno oltre i 150 milioni di euro in solo 45 mesi di giunta a Quaroli Poi abbiamo dei progetti sulle mura storiche quindi penso ad esempio al bastione Sangallo oppure anche tutta la parte della sicurezza stradale uno dei cavalli di battaglia che ho portato avanti in campagna elettorale è il nuovo piano urbano del traffico che punti ad esempio a una rete di piste ciclabili sicura e protetta quindi vedremo quello che riusciremo a fare in questo poco tempo perché è da 20 giorni che ci sono ma l'obiettivo principale è di realizzare nuove piste ciclabili protette Lutto a Fossombrone per la scomparsa di Luciano Mancinelli figura storica della ristorazione cittadina attraverso il suo omonimo ristorante Mancinelli punto di riferimento di qualità e della tradizione forse impronese in particolare per quel che riguarda il tartufo Nuova presidenza al Lions Club Pesaro della Rover per l'anno sociale 2024-2025 lo scorso 5 luglio a Villa Caprile si è tenuta la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne al vertice del club la nuova presidente è Leonora Rubechi Mensitieri che ha ricevuto dalle mani del past president Gabriele Belfatto Campana e Martelletto dei Lions alla presenza di tante autorità cittadine la nuova presidente ha sottolineato il valore dell'impegno in quella che la stessa nuova presidente ha definito la più grande organizzazione umanitaria del mondo ed ora immagini di una curiosità che arriva da Monte Labate dove in questi giorni ha fatto tappa a questo strano mezzo di trasporto si tratta di un trattore storico che trae una casetta in legno su ruote su questo mezzo Kurt e Felix ovvero turista tedesco di Stoccarda e il suo cane di 12 anni stanno girando l'Italia ora il trattore è ripartito alla volta di Ravenna prima e di Venezia poi ma la sua presenza stravagante ha destato curiosità fra i residenti di Monte Labate e domani a Villa Caprile a partire dalle 18.45 si trarrà l'appuntamento organizzato da Unicef ordine dei giornalisti ordine degli psicologi dal titolo I bambini, il cinema, la guerra come raccontare i conflitti ai più piccoli un mix di sequenze e frammenti di pellicole che verranno proiettati con i bambini protagonisti, vittime o fruttori del messaggio declinato dai film relatori dell'evento Massimo Baronciani responsabile dell'Associazione Cultura e Identità e Katia Marilungo presidente dell'Ordine degli Psicologi moderatore dell'incontro sarà il giornalista Antonio Astuti e infine vi segnaliamo che domenica 14 luglio alle 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Novilara ci sarà un concerto d'organo di beneficenza a sostegno della chiesa di San Giovanni Battista di Cerreto che necessita di lavori di manutenzione l'organista sarà il maestro padre Antonio Pedretti sacerdote della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Soria ed ora una notizia di sport saranno infatti 21 gli atleti delle Marche convocate alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi in programma a Parigi davvero un record di partecipazione per la nostra regione che oggi ha applaudito la delegazione in partenza per l'appuntamento a Cinque Cerchi 21 atleti mai nella storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi le Marche sono state rappresentate da così tanti sportivi come nel prossimo appuntamento di Parigi non solo con loro tecnici, medici, direttori di gara giornalisti e dirigenti che sommano una delegazione di oltre 30 marchigiani pronti a partire per l'atteso appuntamento a Cinque Cerchi nella capitale francese un gruppo olimpico che oggi si è riunito a Palazzo Raffaello ad Ancona salutato dall'incoraggiamento dell'amministrazione regionale c'è anche una certa emozione perché vedere qui tanti campioni affermatissimi e tanti altri giovani ecco ci dà molta soddisfazione, orgoglio, entusiasmo ma anche consapevolezza che la nostra è una regione che sta crescendo tantissimo nello sport anche grazie agli sforzi fatti dalle società sportive e dalle amministrazioni locali che hanno investito sulle infrastrutture e questo credo che sia il risultato che più ci mette anche davanti a quello che è il ruolo della pubblica amministrazione che quando è preparata e efficace produce ottimi riscontri Presenti oggi in regione fra i vari atleti Tommaso Marini, numero uno del ranking mondiale nella scherma la formica atomica della ginnastica ritmica Sofia Raffaelli con la collega Milena Baldassarri la ginnastica artistica squadra rappresentata da Lorenzo Min Casali Mario Macchiati e Carlo Macchini fra i tanti assenti giustificati dal serrato ritmo d'allenamenti anche il monumento vivente dello sport marchigiano Gianmarco Tamberi che sarà il portabandiera tricolore a Parigi Dire che siamo particolarmente orgogliosi per avere ancora una volta il portabandiera che viene da questa regione ancora mi emoziona solo a pensarci perché sono quelle cose che chi non vive in questo mondo non sa che cosa significa essere il portabandiera nel momento più importante dello sport mondiale e su questo voglio ricordare che nelle ultime otto edizioni da Atalanta 1996 con Giovanna Trillini al 2012 con Valentina Mezzali e adesso con Gianmarco Tamberi una piccola regione come la nostra ha avuto l'onore di avere per ben tre volte su otto edizioni il portabandiera In crescita anche gli atleti del comitato paralimpico i cui convocati passano da 5 a 6 Il merito va a quelle società sportive che troppo spesso cadono nel dimenticatoio ma che con un lavoro costante, continuo, serio consentono di arrivare a certi livelli e consentono appunto a persone con disabilità di approcciare l'attività sportiva con tutti i benefici che noi tutti conosciamo Questo sabato 13 luglio torna l'appuntamento con Cali City l'estate in un sorso degustazioni vinicole si terranno fra via Castelfidardo via Mazza e via Mazzolari nel pieno centro storico di Pesaro Per il quarto anno il centro storico di Pesaro torna ad ospitare Cali City l'estate in un sorso festival dedicato ai produttori vitivinicoli della provincia Come nell'edizione 2023 l'iniziativa si focalizzerà su via Castelfidardo ma ampliandola alle vicine via Mazza e via Mazzolari comprendenti il cosiddetto centro commerciale naturale Portasale Quest'anno sarà un evento di presentazione di socializzazione e di presentazione di vini ma non solo di attività commerciali artigiani che sono protagoniste di queste due vie interessate arricchite e condite da masterclass direttamente seguite dall'Aes Pesaro che ringraziamo per la loro collaborazione e Raffaele Papi, delegato Pesaro di Aes Pesaro che ci aiuteranno a capire, a comprendere e a presentare ciò che potremmo andare ad assaggiare e a conoscere quel giorno Al costo di 12 euro sarà consegnato un calice un portacalice e 4 coupon per altrettante degustazioni da scegliere tra le decine di etichette proposte dalle 20 cantine del territorio che partecipano all'iniziativa Alle casse sarà anche possibile acquistare i biglietti per partecipare a tre masterclass in collaborazione con Aes Pesaro al costo di 5 euro ciascuna Tanti cittadini non conoscevano le aziende agricole del nostro territorio questo è servito a far sì che in tanti hanno conosciuto anche il vino e oggi lo troviamo in tante tavole di ristoranti quindi è un indotto e crea comunque quella filiera dalla coltivazione fino al prodotto finito e anche all'assaggio In questo evento si valorizza l'eccellenza del territorio si dialoga tra associazioni di categoria si dialoga con tutta la parte di amministrazione quindi è davvero un evento eccellente siamo partiti quattro anni fa con un tavolo operativo per disegnare questo progetto ecco oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro una valorizzazione per il 2024 è importante perché c'è un ingresso della compagine giovane quindi idee nuove ogni anno è stata una piacevole scoperta e quest'anno sicuramente sarà successo con le tante novità portate dai ragazzi e concludiamo il nostro telegiornale ricordandovi un'altra rassegna musicale che sta per partire quella di Montefeltro Festival Saranno la Traviata di Verdi e l'Arena Raciti di Montefiore Conca ad alzare il sipario su Montefeltro Festival rassegna giunta alla ventunesima edizione la dodicesima delle quali all'insegna della collaborazione fra l'Accademia Lirica Internazionale di Nova Feltria Voci del Montefeltro e Riviera Banca proprio nell'auditorium riminese della banca sono stati presentati tre appuntamenti che dopo Montefiore Conca vedranno andare in scena il 16 luglio le nozze di Figaro di Mozart nella piazza Mercato di Cattolica e il 23 luglio ancora la Traviata di Verdi a Villa Torlogna di San Mauro Pascoli Sono opere che si prestano molto allo studio che facciamo in Accademia in Accademia giungono da tutto il mondo però organizzate in vari gruppi provenienti dagli Stati Uniti da New York, da Tokyo, dall'Inghilterra, dalla Polonia ma provengono appunto artisti e studenti da tutto il mondo e quindi queste opere che hanno parecchi personaggi all'interno ci danno l'opportunità di offrire ruoli specifici ad ogni voce Sono opere che insegnano molto anche agli studenti e anche ai giovani artisti che vengono qui da noi apprendono anche a pronunciare sempre meglio tenendo sempre d'occhio lo stile e praticamente tutto quello che attiene al bel canto Per fare questo abbiamo degli artisti notevoli che dirigono le opere, che fanno anche la regia quindi aiutano i ragazzi a trasmettere questa tradizione italiana che poi si diffonde nel mondo I nostri studenti sono più o meno 2.200 nel corso dei 21 anni in cui abbiamo lavorato a Nova Feltria e ogni tanto mi capita di sentire che qualcuno ha fatto una splendida carriera ed è una grandissima soddisfazione che un centro piccolo come Nova Feltria e poi il territorio che lo circonda sia un centro che abbia dato queste opportunità a giovani artisti da tutto il mondo Le tre date esclusivamente realizzate per Riviera Banca fanno parte di un progetto più ampio di ben 30 date di Montefeltro Festival Un appuntamento importante perché riguarda un territorio riguarda una banca, riguarda un insieme di persone che lavorano durante tutto l'anno per organizzare per dare un servizio, per creare dei vantaggi per la nostra cultura per sviluppare la cultura un certo tipo di cultura basato sulla musica, sul teatro, sull'arte La banca di credito cooperativo Riviera Banca non poteva essere estranea a queste cose perché è una banca del territorio è una banca che segue, che è vicino al territorio che segue qualsiasi iniziativa che tenda alla valorizzazione dei giovani E si conclude qui lo spazio informativo di Rossini News Vi ricordiamo però alcuni appuntamenti nella nostra prima serata di questo giovedì 11 luglio alle 21.20 Rivedremo quanto accaduto nel weekend di Nobilara Arte e Gusto dodicesima edizione di questa rassegna che mescola spettacoli, la degustazione di cibo e il piatto forte delle tagliatelle appuntamento come detto questa sera alle 21.20 A seguire un altro tipo di cena quelle offerte dal Parco Miralfiore dal progetto Utopia che ha celebrato sei mesi non solo attraverso cena ma anche attraverso aperitivi, servizi di colazione concerti, tante attività e altre che guardano al futuro che vi proporremo in questo speciale in onda alle 21.40 E poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'edizione di domani venerdì 12 luglio sarà condotta dal nostro Antonio Astuti Ed è davvero tutto invece per questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito